Buongiorno a tutti, io sono Matteo Concilio, sono un Cloud Solution Architect in VMware. Diego Losi, il titolo in Oracle ci divertiamo, Master, Principal, Account, Cloud, insomma, Cloud Architect della soluzione Cloud di Oracle. Perfetto. Bene, oggi il tema è Oracle Cloud VMware Solution, quindi la soluzione presente all'interno dei datacenter di Oracle basata su tecnologia VMware, quindi sullo stack di virtualizzazione datacenter che tutti ben conoscete, abbiamo strutturato così la sessione. Dopo una piccola introduzione, io farò un recap di quali sono le funzionalità e gli use case di questo tipo di servizi, poi passerò la palla a Diego che invece ci entrerà un po' più nello specifico di alcune scelte di implementazione del servizio che sono state fatte lato Oracle, per chiudere poi con una demo live della console del servizio. Quindi esattamente come se l'aveste attivata voi nel vostro tenant. Partiamo con l'introduzione, quindi perché VMware Cloud e Oracle assieme nella stessa frase? Perché se conoscete quella che è stata l'evoluzione della proposta VMware, tutto quello che è stato storicamente reso disponibile on-prem come stack di virtualizzazione, quindi computing con vSphere, storage con vSAN e network con NSX, è cresciuto, si è allargato, si è esteso in un'ottica multicloud, con degli accordi che abbiamo fatto con i vari hyperscaler, tra cui Oracle, per portare questo servizio all'interno del loro catalogo dei servizi cloud. Quindi quello che possono fare i clienti, insieme a noi, insieme agli hyperscaler, è attivare un software defined data center full stack, molto simile a quello che possiamo attivare on-prem con la nostra cloud foundation, basato quindi sugli stessi prodotti, per avere una consistenza nella gestione dei servizi data center on-prem e cloud, ma anche multicloud in parallelo. Diego, raccontaci un po' come funziona OCI, e poi vediamo invece cosa siamo riusciti a fare insieme. Sì, un paio di slide appunto che ricapitolano quello che è l'offering di Oracle sul mondo cloud, quindi si parte da quella che è ovviamente l'infrastruttura, quindi è classico compute, network, storage, container, tra cui anche VMware, poi ovviamente abbiamo anche tutta la soluzione di dati, diciamo non strutturati, per cui il mondo big data, il mondo messaging, e anche ovviamente il mondo data science, il fiore all'occhiello che rimane pur sempre la parte database, e sopra abbiamo anche la parte application, più tutta la parte analytics. In parallelo diciamo che abbiamo tutto quello che è l'offering dei servizi, low code, piuttosto che infrastructure as a code, quindi developer services, e poi ovviamente anche tutta la parte di monitoring, che quindi si chiama observability, security, eccetera, eccetera. Quindi questo qui è un po' quello che è tutto l'offering del mondo, che offre appunto Oracle in cloud, e diciamo che c'è ormai praticamente tutto, i servizi stanno aumentando sempre di più, e anche a livello di marketplace, appunto due partnership importanti, come per esempio VMware, come Red Hat, anche molte altre, insomma arricchiscono tutto quello che è l'offering di Oracle nel mondo cloud. Ok, qualche pillola di quelle che sono un po' le chicche, che appunto fanno parte del mondo Oracle cloud, che noi diciamo essere di Generation 2. Generation 2 perché? Perché 7-8 anni fa eravamo partiti con la Generation 1, aveva qualche problema, e un 5-6 anni fa a un certo punto ho detto, vabbè cambiamo e facciamo la Generation 2. Generation 2 che ha portato delle innovazioni. Innovazioni, ne cito solo alcune, per esempio quello che è l'off box virtualization, per cui il fatto che le macchine virtuali, tutto quello che è, l'hypervisor diciamo adesso fa solo la virtualizzazione, e per esempio invece tutta la parte network viene delegata a un altro chip. E questo fa sì che, per esempio, ovviamente ci sia più sicurezza e performance, nel senso che la parte network viene delegata a un altro componente, e anche predicibilità delle performance. Infatti noi offriamo degli SLA, non solo sulla availability, ma anche sulle performance dei servizi. Quella che, poi vabbè, c'è Remote Direct Memory Access, questo qui è molto importante, per esempio nel caso che io ho un cluster HPC, posso accedere direttamente alla memoria di un'altra macchina senza passare, per esempio, dal kernel. E comunque quella che è più importante qui è questa, cioè la virtualizzazione del layer L2 del network. Infatti la cosa molto importante è che il servizio VMware è un servizio assolutamente integrato nel mondo OCI. Cioè non è una cosa a parte, tenuta lì un po' in disparte, che poi io banalmente per farla parlare con gli altri servizi devo fare dei magheggi col network, eccetera, eccetera. No, è assolutamente integrata, tant'è che io appunto posso fare le VLAN dentro OCI, e quindi le VLAN che poi servono a tutte le robe che sapete meglio di me per far funzionare VMware. Next slide, please. Non vedevo l'ora di dirlo. Questa è la panoramica di tutte le region che ci sono disponibili in questo momento, in realtà non è vero, adesso le region sono 46, nel senso che sforniamo region abbastanza velocemente. Vedete un po' in tutto il mondo, ovviamente la parte europea, abbiamo anche l'Italia, ormai da un anno e mezzo, dove sono disponibili, in tutte le region sono disponibili tutti i servizi con gli stessi prezzi. Per cui non ci sono prezzi diversi come altre hyperscaler in funzione della region. Tutti i servizi sono in tutte le region con gli stessi prezzi. Particolarità, nel senso che ci sono 12 region che sono già interconnesse con Azure. Nel senso che per far parlare OCI e Azure in queste region, non serve rivolgersi a un network provider, l'Equenix, Megaport, Colt di turno, ma basta fare due o tre click nella console OCI, due o tre click nella console Azure e i due mondi si parlano. Basta, direi che non c'è nient'altro da aggiungere, penso che possiamo... Tra le 12 region c'è anche quella di Milano? Tra le 12 region no, non c'è quella di Milano. Non ho capito, scusa. Allora, parlava che i 12 di queste region sono in connessione diretta con Azure, Milano no. Milano no. È previsto? Non è previsto. Poi qua si potrebbe aprire un capitolo, ma magari ne parliamo dopo, di quell'annuncio che ha fatto Ellison con il suo omologo Microsoft sul fatto che potremmo mettere il database dentro Azure. Ma quella è un'altra roba, nel senso che non ci sarebbe più interconnessione, ma il database è direttamente là. Però ci vorrebbe una sessione apposta solo per quella roba là. No, no, ci mancherebbe, anzi. Sì, sì, siamo qui apposta e fateci pure le domande in corsa, se lo ritenete necessario, oppure magari ci ritagliamo qualche minuto alla fine, ma non è assolutamente un problema, anzi. Adesso facciamo zoom su quella mattonella grigia che c'era in basso con scritto VMware nella prima slide di Diego. Vediamo come è fatta l'architettura dell'Oracle VMware Solution. Allora, partiamo da sinistra e vediamo il local SDDC e il nostro data center on-prem. Software-defined data center, perché potremmo, oltre a vSphere, aver effettuato il deployment anche di vSAN, di NSX e magari anche della Cloud Management Suite per estendere le funzionalità del nostro servizio. Non è necessario però avere come requisito tutte queste componenti. È sufficiente partire con vSphere per avere già la maggior parte delle integrazioni. Per spostarci verso il cloud abbiamo bisogno di connettività, quindi il modo più semplice è utilizzare una VPN IPsec tramite internet. Se invece abbiamo già un'adozione più matura di questi servizi cloud, possiamo utilizzare della connettività privata dedicata a collegare i miei data center on-prem con l'ambiente cloud Oracle. Dentro al cloud, che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare il provisioning di un software refined data center o più dedicati a noi. Quindi vuol dire che ci saranno degli host fisici che sono dedicati al nostro tenant su cui vi trovate preinstallato in maniera automatizzata lo stesso stack che avete on-prem, quindi vSphere, vSAN ed NSX. A questo punto possiamo operare in maniera, come dire, as usual, perché alla fine si tratta di un vCenter, di un NSX Manager, dove siete liberi di fare tutte le configurazioni come le potete fare on-prem e possiamo sfruttare quel signore che vedete lì al centro, VMware HCX, Hybrid Cloud Extender, per la mobilità dei nostri workload. È un tool che è presente all'interno nello stack lato cloud e possiamo utilizzarlo per spostare le macchine virtuali tra i due ambienti in maniera molto semplice. L'ultimo dettaglio interessante di questa slide è il box qui a destra, Oracle Cloud Native Services. Come diceva primo Diego, siamo all'interno dell'infrastruttura, della region, dell'hyperscaler e quindi abbiamo connettività privilegiata verso tutto il catalogo dei servizi disponibili. On top, poi, se siamo abituati a utilizzare altri servizi VMware, come Site Recovery per il DR, Horizon, o gli altri che vedete all'interno della slide, si tratta sempre di un software Refinity Center VMware Based e quindi possiamo estendere queste funzionalità in modalità ibrida tra un premio cloud. Parlavo di software, ecco le versioni, se vedete sono già disponibili all'interno di OCVS tutte le ultime release, quindi Visphero 8, NSX 4, l'HCX, che è il tool di migrazione, è disponibile in entrambi i flavor Advanced Enterprise, quindi vuol dire che possiamo arrivare ad avere tutte le funzionalità del tool per avere anche le funzionalità più fini, più raffinate durante la migrazione. Dal punto di vista hardware invece potete partire con un minimo di tre host e poi si può crescere facendo scalare il cluster oppure aggiungendo in parallelo altri cluster o perché no altri SDDC, magari in altre region per coprire diversi use case geografici di ridondanza o di distribuzione delle applicazioni. Per quanto riguarda il singolo blocco hardware c'è una lista molto molto ben fornita di diverse configurazioni, addirittura con CPU, AMD, Intel, quindi si può ottimizzare il dimensionamento nel modo più console. Use case, cosa facciamo con i nostri clienti e come andiamo a utilizzare questi servizi? Andiamo a migrare degli interi data center, quindi chiudiamo data center on-prem e spostiamo i carichi di lavoro in cloud nel modo più semplice e veloce possibile. Facciamo estensione della capacità, quindi vuol dire che a fianco e sfrutto l'elasticità del cloud per raggiungere risorse computazionali al mio ambiente on-prem. Facciamo disaster recovery perché gestire un DR non è solo gestire la schedulazione, i test e le ripartenze, è anche gestire un data center. Perché non scaricare su un servizio cloud questo use case? Virtual Desktop è un esempio di un'applicazione come tante altre che possono essere migrate o estese per capacità in cloud ma che storicamente per volumi possono beneficiare molto bene sia della possibilità di estendere la capacità computazionale alla bisogna sia la possibilità di avere una distribuzione geografica nelle diverse regione. Dettaglio sull'HCX vi dicevo lo troviamo già attivo lato cloud, lato on-prem bisogna semplicemente installare un appliance connetter al vCenter e creare il link fra i due ambienti tramite la console dell'HCX avrò fondamentalmente due funzionalità. Uno è la possibilità di estendere il network a livello 2 quindi vuol dire che la mia VLAN on-prem o il mio logical segment NSX on-prem me lo ritroverò esteso in cloud e quindi quando sposto una macchina virtuale non devo cambiare indirizzi IP. Due è uno schedulatore di replica e migrazione quindi vuol dire che posso chiedergli di prendere un batch di macchine e farmelo trovare in cloud per poi fare uno switch over che può essere a freddo con un riavvio o addirittura anche a caldo con delle vMotion cross cloud a seconda di come è fatto il mio workload. Vediamo Diego invece alcuni temi un po' più specifici dell'implementazione di OCVS. Vai. Vai. Allora quelle che sono appunto le peculiarità della soluzione. Allora innanzitutto la cosa più importante la soluzione Oracle non è una soluzione managed quindi quello che fate adesso on-premise lo dovete fare esattamente uguale in cloud. L'unica cosa che ci mettiamo noi a parte il software ovviamente VMware è l'hardware fisico però basta quello che fate voi on-premise adesso lo dovrete fare poi in cloud. il fatto che non sia una soluzione managed per esempio comporta il fatto che voi abbiate la password di root dei nodi ESX potete fare tutto quello che fate on-premise solo che lo fate in cloud. Potete mettere tutte le extension nel marketplace sono presenti già anche degli altri prodotti VMware però la cosa fondamentale è che non è una soluzione managed è esattamente quello che fate adesso sull'on-premise è completamente integrata con tutti gli altri servizi dopo lo capiremo un po' meglio che cosa vuol dire questa roba qui e quello che vi dicevo un po' prima siamo arrivati un po' dopo come cloud quando citavo prima la generation 2 però questo poi anche qua come effetto collaterale ha portato al fatto di avere dell'hardware secondo noi migliore diciamo così rispetto agli altri hyperscaler nel senso che offriamo shapes sia intel sia md shapes che possono essere quelle che chiamiamo dense io oppure standard cosa vuol dire le dense io hanno lo storage nvme attaccato ovviamente direttamente alle macchine ai nodi sx quindi se ho bisogno di più storage devo aggiungere compute node perché lo storage attaccato direttamente alle macchine nelle macchine standard invece non funziona così sono sempre macchine fisiche ma non utilizzano lo storage attaccato alle macchine ma utilizzano il block volume offerto dal servizio cloud per cui se io ho bisogno di più storage non devo aggiungere potenza computazionale ma semplicemente andrò ad estendere la parte di storage attaccata alle macchine utilizzando o il block volume che è lo storage classico del cloud piuttosto che anche se un servizio che si chiama file server che vedetelo un po' come una nas quindi due tipologie di storage che posso usare con i compute node e questa è un diagramma ad alto livello che spiega un po' la soluzione nel senso quello che si diceva prima cioè ho la mia o si ha i region qualunque delle 46 presenti che comunica per esempio con la parte on premise attraverso la fast connect qua ho la parte vmware e qua ho i classici servizi ognuno che sta nella sua subnet che per esempio il database abbiamo un cliente molto importante in Italia che ha tutta la parte vmware qua il database su exadata che sta nella sua subnet vi dico che la latenza tra questa parte qui e questa parte qua quindi tra il client vmware e il database sono 0,2 millisecondi quindi quindi una latenza assolutamente bassissima e poi qua c'è tutta la parte ovviamente dei servizi che posso andare a utilizzare che abbiamo già nominato prima andiamo velocissimi perché siamo in super passiamo la demo passiamo la demo ok metto gli occhiali ok no perfetto allora questa qui è la console CI io vado nella parte hybrid tanto per farvi vedere qualcosa e vedo la parte vmware solution ok quindi vedete che qua per esempio c'è già un sddc deployato che poi vediamo ma io in questo momento simulo la creazione di un software del file data center per cui tanto per farvi capire metto un nome a caso posso scegliere la versione 7-8 e poi scelgo la parte dell'hcx metto una chiave a caso tanto perché poi sarà quella che mi farà accedere alle macchine ok e faccio next benissimo a questo punto vado a definire i miei cluster ok quindi posso fare per esempio che vado a creare il cluster 1 dove lo vado a deployare questo cluster posso deciderlo di deployarlo o in una availability domain che sono quelle che in altri casi si chiamano availability zone oppure posso decidere di deployarlo su tutti gli availability domain essendo che il cluster come minimo è fatto da tre nodi posso decidere che i tre nodi stiano in tre availability domain distinti ok perfetto e qua poi vado a quella che vado a definire quella che è la shape dei miei nodi sx per esempio io adesso scelgo lascio quella che c'è qua questa shape quindi un dense io quindi quello che ha lo store già appiccicato e basta poi dopo ne scelgo un'altra qua posso andare a scegliere la parte di pricing nel senso che in funzione del tempo su cui io mi commito orario annuale o tre anni il pricing cambia ovviamente se mi commito per tre anni pagherò di meno e ah ok devo scegliere ovviamente la vcn che è la parte di rete questa io sceglierò una 10 100 punto 20 punto 0 barra 23 tanto per scegliere una a caso in funzione ovviamente della subnet io avrò un numero di nodi se scelgo una 24 ovviamente il numero di nodi diminuisce posso avere fino a 62 nodi la parte di notification quindi integrata e il primo cluster l'abbiamo fatto adesso io faccio per esempio un altro cluster no cl2 e a questo punto vado per esempio a cambiare la shape non ne sceglierò una più densa io ma una standard quindi quella col block volume diciamo esterno e a questo punto vedete che qua mi compare anche la parte ovviamente di data store perché io dovrò andare poi a scegliere in il mio block volume qua metto sempre la cosa quello che succede dietro le quinte è che quando voi andate a specificare questa subnet questa supernet vengono viene poi allocata e separata rispettando quello che è un design validato per poi avere la rete di replica di vsan la vmotion il management e tutti i servizi necessari al deployment dell'infrastruttura VMware esatto lo vedete qui qua sotto il cofano sono le vlan che sono le solite vlan che conoscete benissimo che verranno create quando verrà fatto il deployment ok e quindi a questo punto io avendo scelto adesso una shape standard dovrò andare a fare effettivamente scegliere quanto block volume voglio perché non ha più lo storage attaccato lei come vi dicevo prima e vabbè e quindi qua poi scelgo quello che voglio la size custom posso scegliere ovviamente diversi tipi di size il block volume in Oracle può essere anche auto tuning per cui arrivo in funzione delle performance lui si tarra nel senso che sarà più in funzione del workload sarà più o meno performante ok e basta tutto questo comunque per dire che alla fine io ho la console di OCI che è questa qua vedete uno software defined data center dove potete vedere qualunque cosa posso per esempio vedere qua nella parte di network posso andare a vedere quella che è la mia WCN e andare a vedere quelle che sono le mie WLAN quindi lo vedo da questa parte di qua diciamo così da questa parte di qua vuol dire sulla console OCI come faccio abbassare aiutami butto via questo e questa invece è esattamente la il WCenter dell'SDDC che vi ho fatto vedere prima nella console OCI così come avete il WCenter che usate tutti i giorni voi per gestire la la soluzione VMware quindi è esattamente la stessa console siete amministratori completi della della soluzione e potete fare tutte le vostre configurazioni tra cui come vedete in questo esempio fare anche il provisioning di segmenti logici di tipo NSX oppure di tipo WLAN andando poi a diciamo a selezionare a specificare lo stesso ID della WLAN che avete creato lato nativo la TORCI purtroppo abbiamo finito il tempo e non c'è spazio per altro però insomma ci trovate se avete domande volete fare approfondimenti siamo qua dopo la sessione grazie grazie a tutti